L'atelier è concepito per offrire un percorso formativo dedicato al tema del dialogo e dell'integrazione fra il restauro architettonico e il consolidamento strutturale. In tal modo, per la prima volta nel percorso triennale, lo studente si avvicina alle competenze integrate di tipo progettuale, specifiche di queste due discipline. Nel corso delle lezioni vengono affrontati i principi e le metodologie di conservazione e restauro, oltre a problematiche connesse al rischio sismico in edifici storici in muratura. Ciò avviene attraverso l'analisi dei danni derivati dai più recenti terremoti verificatisi in Italia, consentendo di mettere in evidenza le esigenze sia delle soluzioni conservative sia di quelle strutturali. Pertanto l'atelier lavorerà su un caso studio rappresentativo, individuato nelle zone colpite dai recenti sismi, prevedendo anche una visita in loco per illustrare dal vero casi emblematici e cantieri in atto. Al termine del semestre lo studente dovrà aver acquisito i fondamenti necessari per una progettazione coerente con i principi culturali del restauro, nel rispetto delle norme, proponendo un miglioramento sismico negli edifici vincolati.